E' già a casa, annunce Luigi Lombardo, il cantante neomelodico, 43 anni, in arte Mirko Lavezzi, ferito sabato sera a Catania con quattro colpi di pistola, tutti mirati alle gambe, mentre rincasava in viasardo, ferite non gravi, tanto che i medici dell'ospedale lo hanno dimesso qualche ora dopo. La scientifica sta già analizzando i quattro bossoli recuperati per terra, che potrebbero far risalire allarme all'esecutore. Dalle pagine Facebook, intanto, la moglie del cantante rassicura le migliaia di fan, ed è anche attraverso i social che gli inquirenti provano a ricostruire rapporti, frasi o foto, che possono fornire alle indagini un movente che al momento sembra non esserci. Lavezzi incensurato senza precedenti di polizia, interrogato, non ha fornito elementi utili. Gli inquirenti indagano, soprattutto nella vita privata dell'uomo, perché l'ipotesi passionale sembra al momento la pista privilegiata.